Sì pronto? Marco un sosso pallinella. Guarda cosa vado? Marco ma chi mozzarelli mi ha mandato? Cosa hai dito? Ma chi mozzarelli mi ha mandato? Ma se conoscemo i mozzarelli mi ha mandato una sola. Marco li vado prima e ho trovato i vermi. Marco io vado prima i mozzarelli dentro tutti i vermi ma dentro tutti i mozzarelli mi hanno scaduto. Ma sto male? Ma che cazzo stai a dire? C'hai proprio dentro il coso, potete aprire quello? Ma che te faccio? Ma che te faccio? C'hai trovato pure una farfalla? Mi dicevo devi trovare pure una zebra? Sì, un cavallo qua com'hai. Io quello c'hai trovato ma cosa gli dà io alle creature? C'erano quelli sul programma. Alberto ma stai a scherzato e ci metta vero. Credetemi ma non ti dico un punto di bugia. L'ha io messo in un frigorifero ma l'ha messo fermentato. Ma c'hai un alveare in un frigorifero. Ma fermate un attimo il pallonai. Allora il problema è questo il pallonai. Io le mozzarelli glielo ho mandato in regolare. Le mozzarelli sono uscite nella mia cella frigorifera. Io le ho portate davanti praticamente al fogone, davanti al pullman. Le mozzarelli non vanno sopra il suo pullman. Perché il pullman è sopra la cittadinanza gratis perché ce l'aveva condizionata. Io capito ma come i bullman portavamo i mozzarelli? Sotto! Sotto il pallonai! Sotto il pallonai! Ma era peggio a peggiorato! Marco era peggio a peggiorato ma ci sono entrato un momento ma sotto il pullman pareva lasciarmi shake. Ma che senso? Sannava a fuoco! Ma a parte che stavano dentro le contenute le vernici. Qua sotto al pullman dove stanno le vernici? Sì ma proprio! Staticamente ci stanno le vernici. Stanno alla rete e sopra ce l'aveva condizionata. Ma Marco ma tanto ma li chiacchieri tanto ma stanno a zero perché li ho iettati pari e patti perché c'erano mali vermi. Taglio ditto ce li ho trovato tutti i vermi e dentro uno persino una farfalla. Piede! Ah beh mi sembra che mi fanno parlare che stai in cesso. Mi sembra che ne siamo andati a mozzare. Sarà ne siamo andati a mozzare. Ma non sai cosa c'è da mangiare mali vernici. Ho parmi già uno speciale. Speciale ma ci siamo spaccati. Sono solo i mozzarelli che erano mamma del dolore. Proprio lì mali vernici. Sono andati a mozzare e tu non erano i mozzare. Io ho andato a mozzare e tu non erano i mozzare. Ho andato a mozzare e tu non erano i mozzare. E' coco! C'erano mali vernici. Non erano ma di bufala. E' erano ma di verme. Non sta scherzando. Vabbè ora voglio un attimo in cucina. La controlliamo con l'altra merce. Perché sono rovinato ma dentro l'altra roba. Hai capito? Dai se sentimo dopo. Alberto! Alberto! Se tu mi dici questo nel 79 che non ti mangio non fate l'alberone e non mi apri la roba. Se tu mi dici da vedere questo genere è una cosa chiamatissima. D'amore! Io sono molto padre della macchina e tengo padre della macchina. Ma sta 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 buono. Sta buono. Sta buono che stai io a me scherzando. Ma vaffanculo al primo staccio un po'. Eh vaffanculo al primo staccio un po'. Eh vaffanculo ha fatto me lo scherzo Marco. Ma a te pare ma lo staccio. C'è sì ma c'è sì il cascato. Eh Marco. C'è sì il cascato. Eh Marco ma c'è sì il cascato. Eh Marco ma c'è sì il cascato. Con tutti i scarpi. Con tutti i sciocci. Con tutti i sciocci batenai. Eh ma questo buono non ce lo siamo ormai. Ti dicevo lì. Ma scherzi scherzavo sono freschi come rossi. Ma anche perché mi ha detto batenai ha chiamato il personato Ralfino. Mi ha detto che Ralfino non mandava di meno. Voi per darti il prodotto fresco non c'è il tuo volume di produgo. C'è tante volte riservo a Martini 30 litri. Ci sono uscito da una partita di 50 per queste prese. Io te l'ho mandato solo 10. No ma infatti mi ha detto Ralfino che forse ne doveva via l'altro. Ma che poi ti parlava lui. Ha capito? Vabbè me la rivedo. No ma sono speciale. L'ho fatta pure ma in carrozza. Ma sono mondiali. L'ho fatta in carrozza e ci hai fatto mamma le crostine che ha acciughi. Hai capito? No. Dai sentimo dopo signore. Ciao Martini.